Entrata da diva rovinata per la giovanissima di Pche, bellissima e vestita di tutto punto, stava facendo il suo ingresso trionfale sul red carpet della mostra del cinema di Venezia Peccato che poi si caduta scendendo dalla gondola e il tutto, nemmeno a dirlo, è successo di fronte a uno stuolo di fotografi pronti a immortalare quello che è stato un vero e proprio scivolone Praticamente in tutti i sensi. Fortunatamente però non le è successo niente e il suo ingresso è stato comunque strepitoso non appena si è ricomposta e di sicuro ricorderà a lungo la sua prima volta sulla passerella di Venezia Lei è la bellissima e seguitissima Elisa Maino, tiktoker e volto di L'Oreal Paris di soli 17 anni Continua dopo la foto, classe 2003, Elisa è la più giovane a varcare le porte della mostra del cinema di Venezia se escludiamo il figlio di pochi mesi che Alessio Doni ha avuto dalla compagna Nina Verdelli e ha sfilato con loro La Maino, per chi non lo sapesse, è la tiktoker italiana con maggior successo, conta 2,5 milioni di followers su Instagram e su TikTok invece ben 5,4 milioni Continua dopo la foto, nata a Rovereto il 17 gennaio 2003, al momento frequenta il liceo classico nella sua città Nel 2015 aveva già tantissimi seguaci sul suo canale di YouTube ed è stata la prima italiana a oltrepassare un milione di followers sul social musical Ly, dedicato alla condivisione di brevi video musicali Ha scritto il libro Non ti scordar di me e nonostante la giovane età, ha già il film documentario dedicato alla sua vita che si intitola OX Continua dopo la foto, recentemente è diventata anche la nuova testimonial di Laurel Paris ed è quindi la protagonista dello spot che passa spesso in TV Caduta a parte, per il suo primo tappeto rosso dell'era uno schianto Ha indossato un abito confezionato dal giovane brand Giuseppe Di Morabito, che veste i VIP più famosi del mondo, e accessori sono della storica e celebre azienda Tiffany & Co Grazie a tutti